Bene, cari ragazzi e cari ragazze di Quintacca, è sabato sera, in linea di principio la scuola è finita, ma visto che avete l'esame, visto che qualcuno di voi mi ha chiesto una chiacchierata, un approfondimento sul discorso dei nuclei atomici, quindi della fisica nucleare, ho deciso di accontentarvi e di parlare stasera brevemente, in maniera estremamente semplificata, di quello che abbiamo lasciato un po' in sospeso, cioè noi siamo arrivati fino all'atomo di Bohr, quindi la struttura dell'atomo di Bohr, non abbiamo affrontato il discorso di cosa succede all'interno del nucleo, è un discorso molto importante che mi servirà in realtà, e quindi anticipo in qualche modo argomenti che mi servono domani per l'ultima puntata del corso di astrofisica e che hanno anche diverse applicazioni e collegamenti con la storia, pensiamo al progetto Manhattan, ma pensiamo anche alla fusione nucleare all'interno delle stelle, pensiamo alla fissione nucleare a scopi pacifici e ultimamente anche medice e così via. Chiaramente stiamo per parlare di qualcosa di molto, molto complesso che non è affrontabile in termini rigorosi in una quinta superiore. Già la meccanica quantistica, o meglio quei cegni di meccanica ondulatoria, quindi neanche meccanica quantistica, ma una prima forma rudimentare di nuova meccanica che abbiamo visto a cavallo tra l'800 e il 900 e nei primi anni del 900 ha raggiunto i nostri limiti, tra virgolette, matematici. È possibile però provare a tirar fuori alcune stime, alcune considerazioni con discorsi di tipo euristico. Voi sapete che è una parte che a me piace molto, cioè la possibilità di provare a stimare, magari anche con una strada non rigorosa, e magari anche non del tutto corretta, ma che permetta, se non altro, di avere un'idea del meccanismo. Abbiamo visto in diverse applicazioni che questo tipo di percorso, per quanto non rigoroso, permette, se non altro, di affrontare le tematiche più importanti. E devo questa mia passione, questa mia propensione per questo approccio alla fisica ad alcune letture giovanili. In particolare mi sento di consigliarvi, ne ho già parlato in una video-lezione, avevo fatto della copertina, ma di un bellissimo libro di Cennicchier, penso si pronunci così, che prende i nomi di Basics of Cosmic Structures. Basics of Cosmic Structures. Questo libro mi ha fatto conoscere il mio professore di astrofisica, quando ero studente universitario, il professor Paolini, no, scusatemi, il professor Paolicchi, Paolo Paolicchi, e è un libro molto bello, perché permette di analizzare molte questioni di astrofisica con una matematica tutto sommato semplice e con alcune idee. La premessa è che chiaramente tutto questo lo facciamo a scopo didattico, da un punto di vista delle teorie fisiche che oggi si studiano, chi lavora in questo campo ha chiaramente a disposizione teorie molto più rigorose e discorsi chiaramente fondati, ok? Questo però ci conforta che la nostra analisi qualitativa abbia delle basi. L'idea di stasera è la seguente, mi serviranno essenzialmente due risultati. E il primo risultato che mi serve sarà il cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg. E il secondo sarà il teorema del viriale, di cui vi ho già parlato, ma vedremo di nuovo insieme. Dal primo, dal principio di indeterminazione di Heisenberg, recupereremo quella che si chiama, il concetto che si chiama energia di Fermi, che poi darà luogo a una importantissima quantità per la lezione di domani sera di astrofisica, la cosiddetta pressione di Fermi, che è un fenomeno puramente quantistico, e metteremo insieme il teorema del viriale e l'energia di Fermi per fare una stima, per prendere un po' le ossa, per farci un po' le ossa, quindi prendere un po' di fiato su questo percorso, faremo una stima del raggio di Borro, che abbiamo già trovato per altra via, per farvi vedere come funziona, e poi faremo una stima del raggio, parlo di raggio, ma intendo della dimensione del nucleo, vedremo che è molto più piccolo, proprio ordini di grandezza più piccolo, e infine utilizzeremo sempre l'energia di Fermi, il teorema del viriale, alcune considerazioni geometriche, per fare una stima, essenzialmente, una stima, una descrizione, dei processi di fusione e di fissione. Vedremo perché per nuclei piccoli, quindi per atomi che hanno nuclei piccoli composti da pochi protoni e neutroni, la reazione che conviene dal punto di vista energetico è la fusione, cioè facendo fusione di nuclei piccoli si ottiene energia, mentre per la fissione viene l'opposto, cioè per nuclei pesanti, oltre a una certa soglia, la fusione non è più una reazione che produce energia, ma diventa una reazione che produce energia alla fissione. E questo avrà anche delle conseguenze astrofisiche, oltre che tecnologiche. Allora, partiamo dal primo punto, l'indeterminazione di Heisenberg. Non c'è un modo semplice per ottenere la relazione che mi serve, e quindi ho pensato di farvi vedere così un discorso euristico che più o meno funziona in questo modo. Ci ricordiamo che per De Broglie ha una particella di massa m e velocità v, quindi di quantità di moto P, è associata una lunghezza d'onda, detta appunto lunghezza d'onda di De Broglie, pari a H, la costante di Planck, fratto P. Questo è per una particella libera. Cioè, dobbiamo immaginare che stiamo riscrivendo una particella che classicamente è, tra virgolette, una pallina che si muove di moto rettilineo uniforme, e per la meccanica ondulatoria di De Broglie a questa corrisponde un'onda. Un'onda è chiaramente spazialmente delocalizzata e si propaga, come dire, all'infinito. Ora immaginiamo di voler fare in modo di confinare questa nostra particella in una regione dello spazio, quindi vogliamo che questa particella stia all'interno di una certa regione, non vada all'infinito. Da un punto di vista tecnico-matematico la descrizione più corretta è tramite quelle che si chiamano le trasformate di Fourier, far vedere che componendo tante onde di particella libera insieme posso ottenere una, tra virgolette, un'onda che è zero quasi ovunque, diversa da zero, in una posizione ben localizzata. Questa cosa però è abbastanza complicata. Allora, una strada che ricorda molto la quantizzazione di Sommerfeld che abbiamo visto per l'atomo di idrodino e che, ripeto, non è rigorosa, però ci dà alla fin fine il risultato a cui siamo interessati è immaginarci la seguente possibilità. Immaginiamo di voler tenere la particella in una zona ben precisa dello spazio di raggio R. quindi vogliamo confinare la nostra particella in una zona, diciamo, sferica o comunque di dimensioni lineari pari a R. Un modo che ho per farlo è di costruire l'onda, ok, di lunghezza d'onda lambda, in modo tale che si avvolga su se stessa. E per poter fare questo vado a cercare le onde stazionarie. Se vi ricordate come abbiamo fatto quando abbiamo analizzato il primo modello meccanico-ondulatorio alla Sommerfeld per l'atomo di idrogeno. Abbiamo visto, se vi ricordate, in quell'occasione che la lunghezza d'onda deve essere un multiplo, scusatemi, la circonferenza deve essere un multiplo della lunghezza d'onda. Quindi la più semplice lunghezza d'onda, la più piccola, scusatemi, la più grande lunghezza d'onda che posso immaginare che descriva una particella confinata all'interno di questa regione sarà 2pi greco r. A questo punto, al posto di lambda, mettiamo h fratto p uguale a 2pi greco r e otteniamo la seguente espressione p per r uguale ad h fratto 2pi greco. Questa costante, cioè la costante di Planck diviso 2pi greco è piuttosto comune in fisica e prende il nome di h tagliato. quindi h tagliato per definizione è h diviso 2pi greco. Così evitiamo di portarci questo 2pi greco in giro. Quindi la relazione che abbiamo appena ottenuto è la seguente. Metto un circa perché, ripeto, stiamo facendo un lavoro piuttosto euristico. Il risultato è quasi corretto. In realtà Heisenberg dice una cosa molto più interessante e molto più matematicamente corretta. Però quello che mi serve è più o meno scritto qua. E cioè dice che se io voglio confinare una particella e considero la fisica quantistica come qualcosa di importante, quindi stiamo lavorando in un ambito in cui gli effetti quantistici devono essere visibili, Allora, se confino una particella all'interno di una regione di dimensioni lineare r la quantità di moto non può essere presa piccola a piacere ma dovrà in qualche modo avere questa relazione qua. Quindi più è piccolo r più è grande p. Cioè nel momento in cui confino la particella in dimensioni molto piccole la quantità di moto diventa piuttosto grande. Ok? E' una sorta di si chiama indeterminazione perché più è piccola la dimensione in cui la confino quindi più conosco in maniera precisa la posizione più la quantità di moto cresce quindi la quantità di moto reale della particella diventa indeterminata e viceversa. Ricordiamoci appunto questa relazione. Ora, l'energia di una particella diciamo libera è data da P quadro fratto 2m. Ok? adesso se da questa ricavo che la quantità di moto dovuta a questo fenomeno quantistico la esprimo in questo modo metto qui dentro e ottengo quella che si chiama la cosiddetta energia di fermi che ha questa espressione H tagliato quadro fratto 2m r al quadrato che cosa rappresenta questa energia di fermi? Mi dice che essenzialmente ogni volta che io confino una certa particella dentro una dimensione lineare r questa acquista un'energia diciamo detta appunto energia di fermi. quindi anziché collegare la particella a una sorta di energia cinetica questa sarebbe l'energia cinetica l'energia cinetica dipende dalla quantità di moto cioè dalla velocità e dalla massa leggo l'energia alla dimensione in cui la sto confinando tanto le due sono collegate dall'indeterminazione di Heisenberg questo è il succo della questione con questa energia di fermi possiamo fare molte cose interessanti intanto notiamo che l'energia di fermi è inversamente proporzionale alla massa quindi diventa importante questa energia per particelle piccole cioè di massa piccola per particelle di massa grande l'energia di fermi è meno rilevante poi chiaramente dipenderà dal contesto è interessante perché noi siamo abituati poi a collegare l'energia con la pressione per esempio quindi infatti vedremo in nostro fisica che questa energia di fermi rappresenta una possibile pressione che dà struttura stabile a una stella quindi ci sono delle stelle che sono tenute come dire in piedi insieme non da una pressione termodinamica ma da una pressione di questo tipo che viene chiamata appunto pressione degenerata di fermi ma questa è una cosa che in questo momento non ci interessa proviamo a utilizzare questa energia di fermi unendola però a un altro risultato interessante che è dato dal teorema del viriale quindi questo risultato adesso ce lo siamo messi da parte adesso parliamo un attimo del teorema del viriale ne abbiamo già parlato in classe faccio un esempio banale applicato alla gravitazione e poi più o meno ci fidiamo immaginiamo che la maggior parte delle interazioni di cui abbiamo a che fare dovranno soddisfare qualcosa di simile al teorema del viriale questa cosa ripeto è molto vaga ma è uno strumento che ci permette un'analisi qualitativa non quantitativa allora in gravitazione possiamo introdurlo in questo modo l'ho già fatto ma lo rifaccio volentieri immaginiamo un corpo che gravita intorno a un altro corpo quindi questo sia di massa m questo di massa m questo r allora noi sappiamo che l'energia totale è un mezzo mv quadro meno gmm fratto r ok questa è l'energia totale ma un corpo che orbita a causa della gravità ha una velocità orbitale che è ben precisa e che abbiamo già ottenuto molte volte che è pari a gm fratto r ricordate questa è la velocità orbitale allora se metto qui dentro scopro che l'energia totale diventa un mezzo al quadrato viene gmm fratto r meno gm fratto r questa cosa ci dice due cose in questo caso particolare ma il teorema del viriale poi può essere matematicamente generalizzato a casi anche non così semplici ci dice essenzialmente che l'energia cinetica vedete questa è l'energia cinetica è pari a meno mezzo l'energia potenziale questa è l'energia cinetica questa è l'energia potenziale questo è il primo risultato interessante il secondo risultato interessante è che l'energia totale se guardate un mezzo meno questo fa meno un mezzo viene un mezzo l'interesse di questo teorema nel fatto che posso esprimere l'energia totale ok in funzione dell'energia potenziale di legame ok con cui il sistema è legato quindi useremo questa forma del teorema del biriale allora proviamo a mettere insieme questi due risultati ottenuti in maniera così bovina ma che in qualche modo rappresentano la giusta direzione di un calcolo poi che si può effettuare in modo più rigoroso ma che non spetta a noi farlo la prima applicazione che facciamo è proviamo a vedere l'atomo di Bohr allora noi nell'atomo di Bohr supponiamo di prendere l'idrogeno ok abbiamo un protone e come sapete un elettrone ok li disegno come palline anche se abbiamo capito che non sono palline però indipendentemente da questo questo sistema avrà un'energia l'energia di fermi del protone sarà trascurabile rispetto all'energia di fermi dell'elettrone perché vi ricordate dipende dall'inverso del quadrato non del quadrato dall'inverso della massa quindi essendo il protone di mille volte ha una massa mille volte più grande di quella dell'elettrone la sua energia di fermi è mille volte più piccola quindi la trascuriamo e quindi diremo che l'energia totale di questo sistema sarà data dall'energia di fermi dell'elettrone che come vi dicevo sostituisce in pratica l'energia cinetica cioè non c'è che immaginare che l'elettrone si muova e quindi che abbia una traiettoria ben definita diciamo abbracciando l'ambito quantistico non diciamo più che l'elettrone ha una traiettoria ed è in movimento ma è associata a una sua energia che vedete aumenta man mano che il raggio diventa più piccolo e poi abbiamo l'energia potenziale elettrostatica che è quella che tiene in mano in piedi scusatemi il tutto dove e la carica elettrica elementare e qui abbiamo 4 pi greco epsilon con 0 con r ok allora voi vedete che questa energia ha due termini questo termine qua che è negativo è un termine di legame cioè è un'energia che tende a tenere coeso il sistema mentre l'energia positiva di fermi per l'elettrone è un termine che tenderebbe a come dire far allontanare l'elettrone in fondo abbiamo visto che a causa di questo confinamento l'elettrone ha una quantità di moto in più rispetto a quella classica e questa quantità di moto in più tenderebbe a far allontanare è chiaro che quindi si ha una sorta di equilibrio fra queste due ok quindi anziché lavorare su un modello atomico alla Rutherford per intenderci in cui l'elettrone è legato al protone da una forza di attrazione e non cade sul protone a causa di un'orbita circolare quindi nel caso del fatto che esegua un'orbita circolare che richiede una forza centripeta qua diremo che la struttura del nostro atomo di Bohr è data da un equilibrio tra l'energia di legame elettrostatico e l'energia di Fermi quindi è chiaro che più è grande R quindi più allontano l'elettrone più l'energia di Fermi diminuisce ma aumenta l'energia elettrostatica aumenta perché c'è il segno meno viceversa più rendo R piccolo più questa aumenta e questa diminuisce si può trovare come dire un compromesso solo una possibilità potrebbe essere quella di cercare il minimo di questa funzione un'altra possibilità è quella di utilizzare il teorema del viriale cioè proviamo effettivamente a richiedere che questa energia totale sia un mezzo dell'energia potenziale gravitazionale e quindi che H tagliato quadro fratto 2m R quadro meno quadro fratto 4 più greco y con 0 R sia uguale a meno un mezzo e quadro fratto 4 più greco y con 0 R quindi ho usato il teorema del viriale porto questo termine a destra e ottengo H tagliato fratto 2m R quadro uguale questo meno un mezzo se stesso fa un mezzo quindi viene e quadro fratto 8 più greco y con 0 R notate come R si semplifica e troviamo che il raggio di equilibrio di questo sistema sarà dato da 8 pi greco y con 0 H tagliato al quadrato fratto 2m e al quadrato 2 questo si semplifica e quindi abbiamo che il raggio di Bohr minimo ottenuto con questa strana euristica dell'energia di fermi del teorema del viriale è data da questa espressione che se guardate i vostri appunti su quanto abbiamo fatto in classe sull'atomo di Bohr non in classe scusate nei video sull'atomo di Bohr vedrete che corrisponde al calcolo che abbiamo ottenuto con la quantizzazione alla Sommerfeld già all'epoca avevamo detto è un caso abbiamo ottenuto il risultato corretto di Bohr ma utilizzando un processo non proprio legittimo qui la stessa cosa abbiamo ottenuto un risultato che paradossalmente e stranamente è corretto anche se non ci aspettiamo che lo sia del tutto perché abbiamo usato delle approssimazioni una specie di mix tra classico quantistico e quant'altro ci siamo fidati del teorema del viriale di questa strana energia di fermi però il risultato è interessante perché ci dà l'ordine di grandezza in questo caso è anche proprio corretto delle dimensioni dell'atomo se uno va a mettere dentro i valori numerici scopre che questa cosa anzi andiamo a metterli perché mi ero preparato il solito file python allora questa roba qua non ci serve quindi posso nascondere tutta questa parte qua scusate solo un secondo era una calcola che stavo facendo per un'altra cosa allora qui ho stampato proprio il valore 4pi greco epsilon con 0 h tagliato al quadrato diviso la massa dell'elettrone per la carica al quadrato il tutto espresso in metri ok una stringa in python non ci interessa sto usando le librerie ve li ricordate ne avevo parlato astropi nel corso di astrofisica fatto sta che il risultato numerico che mi viene è di 5,3 per 10 alla meno 11 che è appunto la dimensione tipica di un atomo quindi un atomo ha le dimensioni di 5 per 10 alla meno 11 metri ok torniamo al nostro al nostro calcolo quindi questo è circa 5 per 10 alla meno 11 metri possiamo intendere che queste sono le dimensioni tipiche di un atomo o almeno di un atomo di idrogeno ok bene a questo punto vorremmo fare qualcosa di analogo per il nucleo che noi sappiamo che il nucleo a parte l'atomo di idrosino che è composto da un singolo protone negli altri atomi quelli più pesanti per esempio pensiamo all'atomo di elio che è composto da due protoni e due neutroni e ci chiediamo com'è che rimane diciamo coeso con una struttura del genere e la domanda a cui vorrei portare a rispondervi usando una tecnica simile a quella che abbiamo visto adesso è che tipo di dimensione ha questa cosa qui ora qui le cose diventano molto complicate perché non abbiamo un modello semplice e fattibile della forza di coesione sono le forze nucleari che agiscono all'interno di un nucleo mentre qui in fondo la forza di coesione che agisce per un atomo è la forza di Coulomb che abbiamo ben studiato in quarta e rivisto in quinta qui purtroppo non abbiamo qualcosa di analogo a disposizione quindi proseguiamo con questa nostra come dire visione euristica partendo però da alcuni dati e cioè quello che si scopre è che se prendiamo questi quattro elementi due neutroni e due protoni e prendiamo le loro masse e prendiamo la massa di un atomo di elio ok la massa dell'atomo di elio è diversa dalla somma delle quattro masse dei quattro nucleoni cioè dei due neutroni e dei due protoni messi assieme cioè quello che si chiama un difetto di massa un difetto di massa che quindi corrisponde a un'energia di legame in che modo beh lo sapete bene ormai è uguale a mc² cioè se io prendo quattro nucleoni due neutroni due protoni che hanno una certa energia di riposo quindi una massa che per noi è energia di riposo e li metto insieme fino a creare un nucleo di elio la massa totale più piccola ok la massa totale più piccola vuol dire che una parte di questa massa è andata altrove in particolare quindi in energia di legame ok quello che possiamo diciamo stabilire è che questa energia di legame se uno va a fare la differenza di di massa e la converte in energia viene intorno ai 4,4 per 10 alla meno 12 joule scriviamolo qua quindi è all'incirca 4,4 per 10 alla meno 12 joule questa energia mi permette adesso di fare una stima almeno approssimata di quale potrebbe essere la dimensione del nostro nucleo va bene ok perfetto allora l'idea è più o meno questa questo nucleo avrà una dimensione immaginiamolo come se fosse una sfera e quindi una dimensione questo è il nucleo tipica di un raggio questo è il raggio che vogliamo determinare beh ma allora noi sappiamo che stiamo confinando queste quattro particelle all'interno di un raggio r quindi ciascuna di queste avrà un'energia di fermi data da h tagliato al quadrato fratto 2 la massa del protone o del neutrone sono identiche non sono proprio identiche ma sono praticamente identiche per il raggio al quadrato quindi questa è l'energia di fermi perché ho confinato questi quattro oggetti due neutroni due protoni all'interno di una dimensione lineare pari a r come abbiamo fatto prima ricordate per elettrone però ne ho quattro quindi ciascuno di questi contribuisce a uno quindi questo dovrebbe essere l'energia totale e allora pongo questo uguale a 4,4 per 10 alla meno 12 in questo modo la massa del protone la conosco h tagliato una costante posso dare una stima del raggio nucleare il raggio nucleare ok verrà come stima la radice di 4 h tagliato al quadrato fratto due volte la massa del protone per 4,4 per 10 alla meno 12 ok allora anche in questo caso ho già fatto il calcolo che è questo 4 h tagliato diviso 2n 4,4 per 10 alla meno 12 eccolo qua 4 per h tagliato al quadrato diviso eccetera eccetera e la dimensione che mi viene è dell'ordine di 10 alla meno 15 1,7 per 10 alla meno 15 il nostro risultato non è diciamo in modo corretto ma dà il giusto ordine diciamo di grandezza risultati un po' più accurati danno le dimensioni del nucleo un po' più piccole 1,2 1,1 10 alla meno 15 comunque le dimensioni tipiche di un nucleo sono intorno a 10 alla meno 15 metri quindi vedete rispetto a i 5 per 10 alla meno 11 siamo quasi a 4 ordine di grandezza ok di differenza questo vuol dire che un atomo è composto dalle orbite o meglio chiamiamoli con il corretto nome dagli orbitali degli elettroni il nucleo si trova molto molto all'interno molto molto più piccolo rispetto a tutto l'atomo va bene? quindi due aspetti importanti abbiamo visto mettendo insieme 4 di questi due neutroni due protoni il modo in cui si possono mettere insieme non è così semplice c'è tutta una catena per la fusione ok si prendono due atomi di idrogeno si portano vicini bisogna capire cosa significa questo vicini anzi adesso ne parliamo un attimo si forma del deuterio che è un composto instabile questo si lega ad un altro atomo di idrogeno eccetera eccetera cioè c'è tutta una catena di processi non semplici che porta alla fine però alla formazione di un atomo di di elio e questa formazione quindi questo processo prende il nome di fusione quindi da atomi di idrogeno a atomi di elio metto insieme di tanti atomi di idrogeno per ottenere un atomo di elio chiaro che non posso fare 4 atomi di idrogeno perché avrei 4 protoni quindi ci sono dei e non 4 protoni e 4 neutroni però la massa è quella quindi è chiaro che ci sono dei processi che permettono partendo da degli atomi di idrogeno di ottenere sia neutroni che protoni e con queste catene si fa la cosiddetta fusione durante la fusione si ha una perdita di massa quello che abbiamo chiamato difetto di massa e questo difetto di massa questa energia viene liberata sotto forma di energia cinetica di altre particelle vengono emessi dei neutroni in questi processi e anche altre raggi gamma quindi radiazione e questa questa energia viene in qualche modo poi può essere utilizzata per esempio per aiutare alla fusione di altri gli altri elementi ok perché diciamo il problema non è così così semplice perché la distanza come vedete è molto piccola ora a questa distanza ricordiamoci che abbiamo due neutroni e due protoni nell'atomo di droga i due protoni sono cariche positive scusate eccomi scusate sono sopravvissuto ma un attacco di tosse ma è solo perché è andata di traverso la saliva e dicevamo due protoni abbiamo una repulsione di tipo elettrico quindi una repulsione colombiana e questa repulsione chiaramente tenderebbe a separare l'atomo ora l'energia in gioco di tipo colombiano è di se non ricordo potete fare il calcolo calcolate e quadro perché entrambi i protoni hanno la stessa carica elettrica diviso 4 più greco epsilon con 0 e mettete questa distanza qua per esempio ok e quello che ottenete è che è dell'ordine di 10 alla meno 14 giallo ok quindi rispetto a 10 alla meno 12 siamo due ordini di grandezza sotto più piccole quindi effettivamente per atomi piccoli come per esempio l'elio la repulsione colombiana non crea un problema di stabilità cioè è troppo piccola per poter creare problemi di stabilità il nucleo è ben come dire coeso è ben coeso è interessante capire però cosa succede se prende invece atomi grandi perché man mano che l'atomo aumenta no nel suo numero atomico ha è chiaro che ci sono sempre più protoni ci sono sempre più protoni vuol dire che c'è una repulsione colombiana che cresce non solo più diventa grande l'atomo più chiaramente le distanze diventano grandi ok e quindi può essere che arrivati a un certo punto l'interazione colombiana renda l'atomo più instabile bene proviamo a fare anche in questo caso ed è la parte conclusiva dell'edizione di oggi un calcolo di massimo allora immaginiamoci un nucleo quindi immaginiamoci un nucleo di massa atomica A quindi A vi ricordo è essenzialmente il numero di neutroni e protoni ok quindi il numero di nucleoni all'interno del nucleo e possiamo immaginare questo nucleo come composto da tante di queste palline chiaramente è un modello assolutamente così visuale di comodo ma non sono palline il modello che stiamo vedendo è uno dei primi modelli io lo faccio in maniera molto così sportiva si può fare in maniera più rigorosa ma diventa tutto molto più complicato e prende il nome di modello a goccia proprio perché si fa finta che modello a goccia è una specie di goccia no? il nucleo è una specie di goccia condensata anziché di goccia di molecole d'acqua in questo caso sono nucleoni allora dobbiamo distinguere due due tipologie di nucleoni sono quelli che sono totalmente circondati e che quindi hanno un legame che abbiamo visto prima possiamo far finta di prendere lo stesso che abbiamo ottenuto qua nell'atomo di Helio qui vi ricordate avevamo un'energia di legame di 4,4 per 10 alla meno 12 per 4 nucleoni quindi potremmo immaginare che ci sia un'energia di legame nucleare per nucleone per ogni coppia pari a 1,1 per 10 alla meno 12 ok? in realtà è più bassa quella vera è di un po' più di 10 alla meno 13 ma insomma ripeto stiamo facendo una stima quindi immaginiamoci prendiamo questa energia dividiamo per 4 ogni nucleone ha un'energia di legame dovuta a quelli che gli stanno attorno pari a 1,1 per 10 alla meno 12 facciamo questa approssimazione allora quelli interni saranno totalmente circondati quindi posso provare a calcolare quale potrebbe essere l'energia totale complessiva di quelli che sono totalmente circondati per farlo devo capire però quanti nucleoni circondano un singolo nucleone allora questo è un problema il packaging di sfere è un problema anche matematico interessante ripeto dovete immaginare che questo sia un modo euristico per arrivare a un risultato il più realistico possibile ma non è che i nucleoni non è che i protoni e i neutroni sono delle palline è ben chiaro però cerchiamo di muoverci con quello che conosciamo allora la prima domanda che mi devo porre quante palline di un dato raggio r che poi sarebbe il raggio di un protone posso mettere intorno una pallina data allora possiamo provare a ragionare in questo modo calcoliamo il volume ok il volume di questo guscio sferico che circonda il nostro la nostra pallina centrale quindi questa specie che qui sembra una ciambella ma che in realtà è tridimensionale allora immaginiamo di chiamare con R appunto questo questo volume del guscio sferico sarà dato da 4 terzi pi greco il raggio più grande è 2r più r quindi 3r al quadrato questo è il volume di tutta questa sfera meno 4 terzi pi greco r al cubo che è il volume della sfera che ho annerito questo mi da il volume che circonda del guscio sferico che circonda il nostro nucleone benissimo a questo punto dovrei vedere quanti nucleoni possono stare in questo volume allora è chiaro che ognuno rispetto a quello vicino si comporta come se fosse distanziato di 2r allora possiamo approssimare anziché con una sfera perché la sfera vedete lascia un sacco di buchi proviamo ad approssimare questi nucleoni come dei cubetti di lato 2r quindi dividiamo questo volume per il volume cubico che in qualche modo rappresenta la stanzetta in cui deve stare per rimanere separato ogni nucleone da quegli altri e quindi 2r al cubo ok ci siamo perfetto allora a questo punto otteniamo raccogliamo un 4 terzi pi greco qui abbiamo 3r al quadrato scusatemi al cubo questo era il cubo quindi abbiamo 27r al cubo meno r al cubo quindi abbiamo 26r al cubo diviso e qua sotto abbiamo 8r al cubo notate che r al cubo r al cubo si semplifica facciamo proprio i calcoli assolutamente non rigorosi pi greco e 3 semplifichiamo tanto pi greco è 3,14 questo 4 e quest'8 2 e viene circa 13 che è una buona stima in realtà se uno va a fare i calcoli corretti è un problema molto antico questo del modo ottimale per impacchettare delle sfere nello spazio tridimensionale il numero ottimale viene 12 se non ricordo male noi abbiamo ottenuto 13 va bene quindi possiamo ottenere 13 mettiamo 12 quindi saremo tentati se chiamiamo questa energia di legame per nucleone epsilon chiamiamola che questo nucleo qua composto da A nucleoni abbia un'energia pari a meno epsilon con A metto il segno meno perché è un'energia di legame abbiamo visto quindi deve essere è data da una forza attrattiva e quindi l'energia è un'energia di stato legato però abbiamo in questo modo trattato i nucleoni che stanno sulla superficie esterna nello stesso modo di quelli che stanno all'interno quelli che stanno nella superficie esterna in realtà non sono totalmente circondati da nuclei ma soltanto da una porzione ok se immaginatevi se immaginiamo che questi nuclei stiano dentro delle cellette cubiche per intenderci per esempio voi vedete che in realtà per esempio prendiamo questo se questo sta sulla superficie questo è il nostro nucleo noi facendo finta che sia completamente circondato gli abbiamo assegnato un terzo eccessivo di energia ok quindi l'idea è di aggiungere a questa energia un'energia positiva quindi la stiamo togliendo che abbiamo aggiunto in più che sia pari un terzo per energia di singolo nucleone per il numero di nucleoni che stanno sulla superficie ok e quindi anche qua devo fare una stima di quanti nucleoni stanno sulla superficie allora proviamo a fare questa stima immaginiamo che appunto tutte queste siano sferette di 4 terzi pi greco r il protone al cubo questo è il volume di ciascuna sferetta ne ho a e questo dovrebbe essere all'incirca il volume del nostro nucleo con r intendo il raggio di questo nucleo va bene il raggio complessivo da qui vedete che quello che viene fuori che il raggio complessivo del nostro nucleo è all'incirca dato da raggio del protone per a alla un terzo questo è l'andamento del raggio del nostro nucleo quindi più a è grande più il nucleo diventa grande allora quelli che stanno sulla superficie saranno la superficie di una sfera è 4 pi greco raggio al quadrato quindi quelli che stanno sulla superficie saranno 4 pi greco rp al quadrato a alla due terzi ok questo sarà all'incirca cioè scusatemi questo sarà il volume complessivo scusatemi l'area complessiva della superficie divido quest'area per la superficie che posso assegnare a ciascun nucleone e di nuovo come prima immaginiamo un'area quadrata per tener conto del fatto che la forma atmosferica ha molti spazi vuoti e quindi qualcosa del tipo 2 rp al quadrato ok quindi rp al quadrato rp al quadrato e quindi viene circa pi greco a alla due terzi questo è il numero di nucleoni quindi protoni o neutroni nucleoni che stimo sulla superficie quindi non completamente circondati quindi a questa energia aggiungerò epsilon pi greco a alla due terzi un terzo perché abbiamo detto che abbiamo aggiunto con questo meno epsilon con a un'energia che pare un terzo in più all'incirca per ciascun nucleone che sta sulla superficie quindi questi sono i nucleoni che stanno sulla superficie per ciascuno di loro devo togliere quindi mettere con segno più perché ricordatevi l'energia di legame negativa devo togliere un terzo di epsilon e per finire il nostro il nostro calcolo abbiamo che questo oggetto qua avrà una sua energia elettrostatica cioè un'energia dovuta alla alla repulsione colombiana ok in questo caso posso utilizzare come dire l'idea che abbiamo già visto di calcolare di calcolare l'energia di una sfera uniforme di cui conosco il raggio in questo caso il raggio è questo qua ok allora se ricordate mettiamoci qua l'energia di una sfera uniforme l'avevamo fatto in realtà per la per la gravitazione ma chiaramente per nel caso di Coulomb è la stessa cosa no? perché l'andamento è lo stesso quindi l'energia totale elettrica di una sfera uniforme sarà intanto positiva perché è repulsiva mentre nel caso della gravitazione era negativa perché era trattiva sarà repulsiva e sarà data da Z quadro per quadro perché abbiamo che la totalità di cariche è pari a Z dove Z è il numero di protoni e normalmente per un atomo possiamo considerare Z uguale a mezzi i neutroni non si respingono quindi abbiamo metà dei nucleoni che si respingono gli altri che quindi contribuiscono all'energia diviso 4 pi greco epsilon con 0 il raggio di tutta la struttura sferica e poi se vi ricordate il calcolo con integrale veniva un 3 quinti ma il raggio abbiamo visto prima è rp a alla un terzo e quindi questa viene 3 quinti a al quadrato e al quadrato fratto 16 pi greco questo 16 è dovuto al fatto che Z ha un 2 al denominatore che al quadrato diventa un 4 va a moltiplicare con questo 4 diventa 16 pi greco epsilon con 0 attenzione questa è la permeabilità di elettrica non è questa è ho usato una lettera che può generare la confusione questa era l'energia di legame per nucleone e al posto di r mettiamo rp a alla un terzo ok quindi viene 2 meno un terzo che fa 2 meno un terzo fa 5 terzi quindi questa viene una certa costante chiamiamola alfa per a alla abbiamo detto 5 terzi ok dove questo alfa dipenderà da e al quadrato 16 pi greco epsilon con 0 il raggio del protone tra quinti e quindi questa di nuovo la aggiungiamo alla 5 terzi bene che cosa abbiamo ottenuto dopo tanta fatica abbiamo ottenuto l'energia in un modello a goccia l'energia complessiva di un nucleo in funzione della della massa atomica cioè del numero di nucleoni che contiene il nucleo ora vedete che la dipendenza cresce in modo diverso con a cioè questo termine negativo e questi due positivi crescono diversamente ok se andiamo a fare l'energia per nucleone quindi dividiamo per a ok quindi se facciamo l'energia per nucleone dove posso mettere facciamo così espandiamo abbiamo un programma che ci permette di espanderci a destra quindi dividiamo per a quindi energia di legame complessiva atomica per nucleone se dividiamo per a viene meno epsilon che conosciamo non era quel famoso 1,1 per 10 alla meno 12 già ho almeno una fase approssimata qui abbiamo una costante fatemi chiamare questo va lasciamolo pure scritto così un terzo epsilon pi greco se divido questo per a viene a alla meno un terzo e poi qua abbiamo più alfa se divido questo per a viene a alla due terzi ok per quanto rude sia questa questa struttura che abbiamo trovato dà il giusto andamento cioè quello che si scopre che se io vado a fare un un plot no in funzione di a di questa energia per nucleone chiaramente devo prendere a abbastanza grandi perché siamo partiti dall'idea che ci siano dei nucleoni completamente circondati quindi per esempio per l'atomo di elio questa cosa non funziona ma per l'atomo di elio abbiamo visto il calcolo più semplice visto prima in generale per a un po' più grandi quello che succede è che questa espressione in funzione di a quindi questa è l'energia per nucleone ha un andamento del genere decresce e poi ricresce cioè possiede un minimo che a questo punto potete calcolare se non ricordo male con i dati che abbiamo visto in questa lezione viene di circa 46 intorno a 46 chiaramente essendo massa atomica dovrebbe essere come dire un numero intero no? 46 o 45 con i modelli reali di nucleo reale viene invece 56 e il minimo corrisponde al ferro che cosa mi dice questo grafico che effettivamente fa così? mi dice che se ho nuclei leggeri quindi con massa atomica piccola voi vedete questa energia per nucleone diminuisce cosa vuol dire? che se aumento la massa atomica l'energia del nucleo diminuisce se diminuisce vuol dire che il nucleo perde energia cioè io acquisto mettendo insieme nuclei leggeri per renderli più pesanti acquisto energia quindi in questo tratto conviene la fusione cioè con la fusione fusione vuol dire che parto dal nucleo con A piccolo e ottengo un nucleo con A grande quindi A aumenta quindi aumentando A quindi facendo la fusione di nuclei leggeri che i nuclei più pesanti ottengo effettivamente energia ok? e quindi questo mi permette di immaginare un processo che fornisce energia per fusione nucleare quando però arrivo al minimo da questo punto in poi se io vado ad aumentare A l'energia più nucleore aumenta questo vuol dire che la devo fornire io quindi il processo di fusione non mi permette di ottenere energia anzi devo essere io a fornire energia per nuclei più grandi invece conviene l'altro processo cioè quello di fissione cioè in questo caso conviene prendere un nucleo che ha un grande A quindi composto da tanti nucleoni e scinderlo in nuclei più leggeri perché in questo caso ho una diminuzione dell'energia per nucleone e quindi ho delle energie in più che viene fuori e che quindi posso utilizzare ok questo è il motivo per cui si usano per la fusione cioè si usano per la fusione sulla terra difficilmente si riesce a tenere fusione controllata al momento quello è il nostro sogno però all'interno delle stelle la fusione parte dagli elementi più leggeri si inizia con l'idrogeno e poi si va eventualmente all'elio e superiori ma arrivati al ferro non si può più fare fusione quindi il ferro è l'elemento più pesante che si può creare all'interno dei nuclei stellari per processi di tipo termonucleare poi si possono creare gli altri elementi in procedimenti un po' più complessi che eventualmente accenderemo domani sera alla lezione di astrofisica invece la fissione fa l'opposto cioè prende nuclei pesanti come l'uranio come il plutonio ok e lì come dire li spezza spezzandoli ottengo energia che questo processo è molto più semplice è molto più semplice perché è più semplice e così qua ci salutiamo abbiamo visto per torniamo un attimo all'atomo di idrogeno abbiamo visto che per far fondere tra virgolette cioè per arrivare alla fusione nucleare devo prendere degli atomi di idrogeno e portarli vicino quanto vicino beh abbiamo visto queste le dimensioni a cui devo arrivare ok e quindi ho una ripulsione colombiana di quest'ordine di grandezza se prendiamo quest'ordine di energia cioè devo fornire questa energia altrimenti minima per portarli a quella distanza altrimenti non riesco a portarli a distanza tale da poter come dire ottenere il nucleo più pesante quindi questa barriera si chiama proprio barriera colombiana perché i protoni si respingono deve essere superata per ottenere questa energia per esempio posso andare a considerare energia di tipo termico tre mezzi kt ok e quello che scopro è che per ottenere quindi energia di tipo termico se voglio portare diciamo a fusione atomi di idrogeno per via termica quindi fare una reazione di tipo termonucleare si chiamano proprio termonucleari perché l'energia che mi permette di far avvicinare due protoni viene da un'allevata temperatura se voglio tutto questo devo devo avere alte temperature se ci fosse solo questo discorso per fondere l'idrogeno in elio mi servirebbero temperature dell'ordine di 10 alla 10 kelvin troppo alte abbiamo visto se vi ricordate chi di voi ha visto l'elezione di astrofisica che possiamo fare una stima della temperatura all'interno di una stella diciamo intorno ai 10 alla 7 10 alla 8 kelvin quindi siamo due ordini di grandezza sotto quindi se questa fosse l'unica fisica disponibile non riesco a innescare per temperature all'interno di una stella le reazioni di fusione nucleare quindi non dovrei avere le stelle per fortuna ma mi fermo qua e ne parliamo semmai domani sera per fortuna esistono come dire delle scappatoie in particolare questi nuclei atomici subiscono quello che si chiama un effetto tunnel cioè a causa della loro natura quantistica possono effettivamente oltrepassare la barriera classica colombiana per pochissimi istanti possono in qualche modo venire meno alla come si chiama alla alla ripulsione di tipo colombiano questo venire meno è probabilistico cioè c'è una certa probabilità che due atomi di idrogeno possono avvicinarsi oltre la barriera data da colomb quindi di ripulsione elettrostatica anche se hanno temperature non sufficienti quindi hanno energie cinetiche non sufficienti questo evento però è poco probabile ok si scopre che però è sufficientemente frequente da permettere l'innesco della fusione nucleare all'interno delle stelle quindi per il meccanismo di funzionamento del nucleo stellare è necessaria la fisica quantistica va bene mi fermo qua ci tenevo perché appunto alcuni di voi mi hanno chiesto alcune così dettagli al limite un pochettino così vaghi ma almeno abbiamo visto anche qualche numero e qualche calcolo su come funziona un nucleo quello che abbiamo visto stasera sono modelli euristici assolutamente semplificati che però danno non solo il giusto ordine di grandezza ma ci fanno anche capire come dire ci permettono con questi toy model questi modelli giocatori di capire perché abbiamo questa struttura cioè l'idea è che i nuclei piccoli la forza di fusione nucleare è molto più grande della repulsione elettrostatica di Coulomb quindi i nuclei piccoli tendono ad essere stabili quindi ne metto insieme tanti e ottengo energia perché vanno in condizioni di energia più vantaggiosa però man mano che il nucleo incomincia diventare più grande le parti esterne abbiamo visto sono meno coese perché hanno meno atomi intorno questo fattore qua metano che abbiamo visto prima sono meno coese e in più la repulsione colombiana man mano che aggiungo protoni al nostro nucleo diventa sempre più intensa quindi arriveremo a un certo punto in cui il nucleo diventa in qualche modo non energeticamente stabile all'aumentare della massa atomica ma per aumentare la massa atomica serve dell'energia e non ricavo invece energia e quindi vado sul ramo diciamo della tavola periodica in cui conviene la fissione poi non tutti gli elementi fanno fusione non tutti gli elementi fanno fissione la cosa è molto più complicata ma se non altro abbiamo capito strutturalmente perché un modello a goccia ci permette di trarre questa conclusione è come se man mano che aggiungo pezzi diventa sempre più fragile e quindi superato una certa soglia la fragilità è eccessiva e mi serve dell'energia per metterli insieme piuttosto che ricavarli va bene mi fermo davvero e vi auguro la buonanotte a tutti e a tutte arrivederci